E' arrivato in aula con il passo malfermo lasciatogli da un incidente automobilistico, ma stavolta ne è uscito in manette, scortato verso l'infermeria del carcere dove rimarrà in attesa di conoscere una pena che potrebbe arrivare fino a 25 anni. La caduta di Harvey Weinstein, ex re di Hollywood appena condannato per stupro e violenza, è stata accolta con un sospiro di sollievo dalle sue accusatrici e da tutto il movimento MeToo di cui rappresenta la Nemesis. Prima di tutto mi sento molto più sicura e mi sento euforica, come se ogni cellula del mio corpo gridasse, mio Dio, ce l'abbiamo fatta, finalmente ce l'abbiamo fatta, dice Lisette Gays, accusatrice di Weinstein. Il verdetto è stato accolto dal movimento MeToo come un momento storico per il sistema legale, per le donne di Hollywood e di tutto il mondo. Non è più tutto come al solito negli Stati Uniti, dice l'avvocato dell'accusa, questa è l'era dell'emancipazione femminile e non si può più intimidire le donne, che non si lasceranno più mettere a tacere. Il procuratore distrettuale Cyrus Vance ha salutato le accusatrici di Weinstein dicendo che hanno cambiato il corso della storia. È stupro, anche senza prove fisiche, anche se è successo molto tempo fa, e questo è il nuovo paradigma per i sopravvissuti alle aggressioni sessuali in America e credo che segni l'inizio di un nuovo giorno. Il processo è stato il primo, nato dalla marea di accuse rivolte a Weinstein da parte di oltre 90 donne, l'ex superproduttore, tuttora accusato a Los Angeles di averne aggredite due nel 2013.